E' uno dei migliori laboratori italiani, quello di Bolzano, è un laboratorio accreditato, assolutamente certificato di grandissimo livello. Mi dispiace molto che Isla abbia poi deciso di sostituirlo con un altro laboratorio altrettanto accreditato, ma secondo noi non altrettanto consolidato come laboratorio di Bolzano. Quindi le analisi successive che vedremo, il nostro tecnico ha partecipato al contraddittorio, abbiamo messo sul nostro sito il verbale di fine analisi, di fine sessione di analisi, lo potete trovare nelle news nel nostro sito. Quindi assolutamente il laboratorio da dove provengono questi risultati è un laboratorio di grande autorevolezza tecnico-scientifica.